Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde, in questo video volevo informarvi riguardo la data di uscita del DLC Vita Notturna di GTA V Online e non solo, prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione e a lasciare un bel mi piace al video, grazie a tutti quelli che lo faranno, e iniziamo subito! Uno dei modder più affidabili della community di GTA V Online, ovvero Tezfans, sul proprio account Twitter ha pubblicato questo post con scritto la prossima settimana niente di interessante, la settimana dopo e molto probabilmente questo post è riferito alla data di uscita del DLC Vita Notturna perciò questo martedì, ovvero martedì 10 luglio, non dovrebbe essere rilasciato il nuovo DLC nel gioco ma la settimana dopo, quindi il martedì dopo, ovvero martedì 17 luglio e poi ha pubblicato quest'altro post con scritto quest list, ovvero elenco degli ospiti riceverai questi veicoli gratuitamente alla fine di questo mese il Nike Shark e l'Ubermatch Revolter se ci dovessero essere altre notizie, novità e informazioni ve le porterò sempre sul canale quindi dentro ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicino in su, un commento iscrivetevi al canale, condividete il video poi seguitemi sui social trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e da AllCoverde tutto noi ci vediamo al prossimo video bella